Arezzo, Luciano, vieni qua. Il Comune ha tagliato il 50% dei contributi al Saracino. Tutti i quartieri sono arrabbiati, ma il nostro candidato, Luciano Imbriani, ha una soluzione anche per questo. Anche per questo. Io innanzitutto ringrazio tutti perché ho avuto non centinaia, ma milioni di mail da tutte le parti del mondo, New York, da tutti, è una cosa incredibile. Tengo gli occhiali perché sono stanco e non ho mai dormito. Io ora non riesco a capire che tu... Assento, assento. No, ti devi essere qui con me. Sì, ma assento, ci sono, ma assento. Ho capito. Benissimo. Allora, riguardo la giosta, noi non si può. Una città, dice, il divertimento lo devono avere tutti. La giosta? Che abbiamo citato la giosta? Bravissimo. E allora loro, cosa ha detto il sindaco? Il sindaco. Il sindaco. Il sindaco. Ah, bravissimo. Il sindaco ha detto che può tagliare... Bracciali. Ah, Rolex. Bracciali. Rolex, anche qui è tu? No, non so. Famoso Rolex. Non so un black blocchio. Va bene. Benissimo. Dice, dopo se ne riparlerà. No, invece io lo dico subito, perché non voglio, io non voglio, cioè... Bravo. Visto asfaltano, fanno tutti i ruspiani. Che facciamo a quartieri? Noi i quartieri hanno 60 mila euro l'anno? Sì. L'anno? In mese. A quartieri. E più si fa un direttore di giostra a 30 mila euro il mese. Che sa? Buratto d'oro. Saluto, aspetta, aspetta. Buratto d'oro. Il gnagno che sarà con te. Buratto d'oro e tutti... Scusa, non mi dà nasceremo. No. Il buratto d'oro, come fa a girare? Già a girare... Ma che si fa il buratto d'oro? Ma c'è stata ora l'oro, questa cosa dell'oro, che è tutto oro, facciamola anche noi. Ma non tutto quello che rilugica. E le palle? Pochino zuccherine, zuccherine... Quello il buratto. Va bene, le palle del buratto le faccio... 60 mila euro al mese ai quartieri. Ai quartieri. E in cambio i quartieri cosa devono fare? Niente. Noi, ad esempio, cosa fanno i politici? Niente. Niente. Pegliano una palla di soldi. Niente. E cosa fanno i quartieri? No. Oddio, reatto. I cavalli? Da ora i cavalli? Diciamo qualcosa anche sui cavalli. Ragazzi... Nel chiudere. Nel chiudere. I cavalli... Il cavallo, sai che li diciamo ai politici... No, al proprietario del cavallo 100 mila euro. Ma ai politici convenzionali, usando il cavallo dei pantaloni, gli si dice... Toho! No, ma che... Manco c'è. No, 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 troppo... No, manco c'è. Poi riguardo... Tagliamo la saluta e la tagliamo. Ciao. Ciao.